Ci hanno raggiunto dall'Abruzzo un gruppetto di amici tra cui Claudio Torres da Avezzano con furore insomma diciamo giocela tutta grazie di essere qui Claudio Grazie a voi per averci invitato So che ho visto che ti dai molto da fare, grande presentatore, grande lettore, grande veramente tutto ma diciamo la motivazione perché porta all'invito Oggi Claudio Torres è qui per farci ascoltare La canzone che mi ha portato tantissima fortuna è intitolata Ricordi di Riccione Pensate che io sono stato premiato dal sindaco di Riccione Daniele Inman con la Saviolina, la barca storica e il sindaco della Maria di Riccione E quindi la ripropongo sempre con molta gioia perché mi ricorda la mia giovinezza quando andavo a Riccione Conoscevo tanta bella gente e mi divertivo tantissimo Allora Claudio quale cosa bolla in pentola per te nel prossimo futuro immediato dal punto di vista artistico musicale? Dunque oggi sono presente ad Avezzano con una mia opera intitolata come pittore, intitolata Parenti Poveri Poi prossimamente promuoverò il mio spettacolo pittura e musica con il maestro Danilo Murzilli in Abruzzo e in altre regioni d'Italia Poi continuerò il tour con la bella d'Italia con l'arma Carpagnini in Abruzzo Dall'Osi Park è tutto, Claudio Torres, Avezzano, Abruzzo, tanta passione e tanto cuore per le attività di aggregazione, di beneficenza e di ricordo dei big della musica Grazie Claudio Grazie a voi per l'invito ad Maiora Io ti ando sulle lato